Impossibile! Impossibile! Io non ci credo! Impossibile? Mi pare di udire mia moglie. Lei dice sempre che le cose che mi capitano sono impossibili. Ieri, per esempio, dovevo andare a fare il testimone alla nipote di un mio amico molto in pista. Per originalità, le nozze si celebravano in un paesino di montagna. La mia auto era in officina e così presi la corriera. Toh, c'è la partita di calcio. Se non fosse stato per il matrimonio, ci sarei andato. Arrivato in albergo dopo un viaggio così, prima di cambiarmi, decisi di fare un bagno. Però il bagno non volevo farlo vestito, eh? Ma pensate che lei ci abbia creduto? Dice che invento scuse, dice che è impossibile. Pensavo. Per fortuna non ho indossato il taito. Ma questi non sono i miei pantaloni. Quel signore distinto, quello seduto vicino a me, aveva la valigia uguale. Allora è lui che è il mio taito. Lo striscione, la partita, l'arbitro. Lui è l'arbitro. Non mi rimaneva che andare alla partita. La macchina l'aspetta, la condurrà allo stadio in un attimo. E le raccomando, forza Folchi! Vi ho portato l'arbitro. Mi avevano scambiato per l'arbitro. Io ho tentato di spiegarmi. Ma è stato tutto inutile. A me non interessava la partita. Interessava ritrovare il vero arbitro con il mio taito. Mi voltai, lo vidi e gridai. Arbitro! Arbitro! E per richiamare la sua attenzione fischiai. E non volendo diede inizio alla partita. Mi lascio immaginare quel che è successo dopo. Quando finalmente sono rientrato a casa e ho raccontato tutto a mia moglie, lei ha detto che era impossibile. Così come diceva che era impossibile questo sporco. Sugo, uova, grasso, rasoio. No! Niente macchie impossibili per Biopresto. Biopresto è biolavante. Contiene enzimi e lava biologicamente in modo nuovo. Così gli enzimi di Biopresto staccano lo sporco impossibile. Visto che avevo ragione? Biopresto è biolavante. Liquida lo sporco impossibile già nell'ammollo. Biopresto!